E con grande piacere amici di Auto Occasioni, come sempre, darvi il benvenuto nella sede Auto Ingros di Torino, Corso Rosselli 181, come sempre ad accoglierci, Enzo Lagatta, ciao Enzo innanzitutto. Ciao, ciao Daniel, un benvenuto a tutti quanti voi qui in Corso Rosselli 181 a un passo dal Parco Ruffini. Ma questa è una puntata veramente speciale perché finalmente è arrivata anche da Auto Ingros la mega rottamazione. Che cos'è Enzo? Esatto, esatto, la tanto aspettata rottamazione. Fino a 6.000 euro di sconto rottamazione potete rottamare qualsiasi automobile, anche intestato ad un parente, ad un amico o ad un vicino di casa. E allora rimanete con noi perché in questa speciale puntata vedremo i grandi vantaggi targati Auto Ingros grazie alla mega rottamazione. Andiamo! Per esempio in pronta consegna tutta la gamma Panda, Panda Wind, Panda Cross, Panda Easy, Panda Launch, tutte le Panda in pronta consegna, tutte le colorazioni, grazie alla mega rottamazione, puoi averla con uno sconto oltre i 4.000 euro. E con questa bellissima 500L voglio ringraziare tutte le mamme che portano i figlioletti a scuola, tutta la famiglia. Bene, grazie alla mega rottamazione potrete acquistarla a soli 12.700 euro. Un altro angolo dedicato a queste fantastiche automobili per la città, molto eleganti, quindi parliamo di Lancia Ypsilon. Black Noir in lancio questo weekend e alle mie spalle una fantastica Elefantino. Grazie alla mega rottamazione, grazie ai miei colleghi che vi faranno provare queste fantastiche vetture, potremo acquistarle a solo 9.100 euro. Sempre in corso Rosselli 181 presso la concessionaria Auto Ingros potrete trovare Jeep Renegade a partire da 17.900 euro e Jeep Compass a partire da 22.500 euro. Questo è il mese dell'usato days in tutte le concessionarie Auto Ingros, ma in corso Rosselli 181 trovate Fiat Tipo, attenzione, 1.600 multijet 120 cavalli full full optional, con la grande opportunità sempre nuova, grandissimi vantaggi compresi nel prezzo, il prezzo piccolissimo, 11.690 euro. Basta blocchi del traffico, risparmiate sin da subito per acquistare questa super grande Dacia Duster, attenzione, GPL full full optional, prezzo piccolissimo, 12.900 euro. Fiat 500 B-Fuel, pochissimi chilometri, meno di 20.000, automobile pari al nuovo, prezzo Auto Ingros Torino 17.900 euro. Tanto spazio per tutta la famiglia per portare tante persone e tanti bagagli, parliamo del monovolume di casa Lancia, il Voyager 2.8 turbo diesel versione Gold 160 cavalli, piccolissimo il prezzo, attenzione, 15.990 euro. E allora amici, approfittate anche voi dell'usato days di questo mese speciale per l'usato Auto Ingros nella sede di Torino di Corso Rosselli 181. E ci siamo trasferiti, amici di Auto Occasioni, nella sede storica di Auto Ingros qui a Borgaro ad accoglierci come sempre con una grande novità, Denis Colonletta. Ciao Denis. Ciao Daniel, buongiorno a tutti. Da 25 anni qui a Borgaro Torinese via Lanzo 42. Una grande novità perché ci troviamo in un ampio nuovo showroom interamente dedicato al marchio Jeep. Assolutamente Daniel, nella sede di Borgaro Torinese anche lo spazio dedicato a Jeep e Alfa Romeo per toccare con mano e provare su strada queste fantastiche vetture. Ma questa è una puntata veramente speciale perché in tutte le sedi Auto Ingros l'usato days è presente, quindi tante automobili d'occasione, buttate via il telecomando e prendete nota di queste grandi opportunità d'acquisto. Partiamo dalla nostra rassegna degli usati presentandovi questa Abarth 595 Turismo, 165 cavalli del 2017 che ha percorso solo 13.900 km al prezzo speciale di 17.900 euro. Presentiamo anche la più elegante del gruppo FCA, la Lancia Ypsilon, aziendali a partire da 8.900 euro. E attenzione signori, solo per i più veloci, le ultimissime Fiat tipo Station Wagon, le più accessoriate 1.6 Multijet Lounge a soli 11.690 euro con sempre nuova. E non solo Fiat, qui in casa Auto Ingros vi presentiamo questa Nissan Micra del 2017 che pensate ha percorso solo 6.000 km, venite a scoprirla, il prezzo 11.900 euro. Servono solo 7.900 euro per poter entrare in possesso di questa Opel Corsa GPL, pensate 0,53 centesimi al litro, una vettura del 2014 con soli 50.000 km, venite a scoprirla. Ancora usato o ancora GPL come questa splendida Giulietta 1.4 Turbo 120 cavalli, GPL del 2015 che ha percorso solo 50.000 km a 14.900 euro. E sono anche tante le 500 L che avete la possibilità di scegliere, tante motorizzazioni e tanti colori, proprio come questa a partire da 11.900 euro. E ricordiamo inoltre che in Auto Ingros potete trovare una vastissima gamma di chilometro zero, proprio come questa 500 nella versione Pop GPL Easy Power casa madre, a partire da 12.490 euro. Siamo in chiusura, ancora pochi secondi a nostra disposizione, ritorniamo a parlare di automobili nuove nell'elegantissimo showroom qui all'Auto Ingros Borgaro dedicato ad Alfa Romeo. Certo, non potevamo che fare anche un salto nello spazio dedicato a queste fantastiche vetture, anche qui tutte da provare, da toccare con mano e poter valutare le fantastiche opportunità di questo mese. Un indirizzo speciale e ve lo ricordiamo? Via Lanzo 42, Borgaro Torinese. Da Dennis Colonnetta, Daniel Broci e Auto Ingros Borgaro è veramente tutto. Alla prossima!